Conosciuto per aver doppiato Leslie e Nielsen in molti film e altri grandi attori del calibro di gene, Ackman, Sean Connery, Robert Duvall, Steve M.C. Quinn, Christopher Lee, come attore ha recitato in molti film e sceneggiati televisivi dalla fine degli anni 50, fino ai primi anni 90. Alcune volte era accreditato come Sterling Roland.